La tendinopatia calcifica è una malattia caratterizzata dalla presenza di anomali depositi di calcio nel contesto dei tendini della parte profonda della spalla, quelli che normalmente sono chiamati la cuffia dei rotatori. Questi depositi anomali si costituiscono verso i 25-30 anni, rimangono generalmente quiescenti per molti anni e danno luogo ad una sintomatologia caratterizzata prevalentemente da dolore ed impotenza funzionale in un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. Le persone che ammalano di spalla dopo i 60 anni soffrono generalmente di un'altra malattia, di una tendinopatia di tipo degenerativo, mentre invece quelle più giovani tra i 40 e i 60 anni generalmente soffrono della tendinopatia calcifica. È molto importante fare una diagnosi corretta perché l'errore che trovo più frequentemente che si fa da parte di tutti gli operatori è quello di classificare come tendinopatia calcifica, altri depositi calcifici che non hanno nulla a che fare con questa malattia.